Ciao! Cosa stai facendo adesso? Ciao Fede! Come stai? Stai facendo parlare l'uovo che ha in testa, vero? Sì! Ok? Ti piaccio? Allora, lo sai che Pasqua è finita da un pezzo e che te lo dovresti togliere? Ciao! E ragazzi, come va? Io sono Fede Niki E io sono Stefano e che se oggi chiamo Roblox E stiamo aggiornati con il nostro tre mappe in uno Che poi non è mai tre, però va benissimo perché lo chiamiamo sempre così Esattamente E oggi inizieremo con una mappa molto particolare Perché si tratta di un classico preferiresti Ok Ma che non è poi tanto classico Perché una volta fatta la scelta bisognerà pestarsi Quindi mappa di Fede Niki assolutamente Esattamente Come vedete, praticamente dopo che scegliete il lato Tutti quelli di un team dovranno ammazzare quelli dell'altro team Quindi l'obiettivo sarà quello di azzeccare il team che viene scelto da più persone Perché altrimenti verrete pestati malamente Vado io uno contro tutti ammazzo tutti E farete la fine di questa specie di Carmen che è uno contro dieci o giù di lì Poverino, poverino L'hai visto questo qua che ha un uovo anche lui in testa? Sì Ed è il cannone, quello che abbiamo cercato di fare nella mappa ma non siamo riusciti a farlo Ma che bello, lo voglio anch'io Era bellissimo, cavolicchio Ma si possono ancora fare? Forse sì Forse sì, cerchiamo di recuperare qualche uovo Esatto, esatto Perché questo è davvero bello Pronto? Ciao cannone Sì, sono pronto Allora, non mi dire quello che scegli, eh Ma qua Ah, perché non vediamo neanche Wear a beanie o wear a baseball cap? Cos'è un beanie? Penso che sia tipo una sorta di cuffietta Ok Quindi scelgo Beanie Anch'io, anch'io Allora Mi ispirava di più come Perlomeno siamo in team insieme Non so quanti ne avremo contro ma preparati a picchiare tutti Perché a me i cappellini da baseball non mi piacciono quindi vado Carica Fere Carica Fere Vai Ok, ok Siamo leggermente di più noi Ma abbiamo un mattarello Sì, 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 sì È l'arma iniziale Allora Quindi proprio allegnate Io sto puntando a quello che ha la faccia da uovo perché lancia coltelli Ed è un po' più pericoloso degli altri Io vado qui nella mischia Muori, muori Aiutatemi, aiutatemi Ok, l'ucciso, 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 l'ucciso Abbiamo vinto? Ci abbiamo fatto? No, c'è il guest, il guest è nell'angolino Ma dove? Guardalo picchiando da so, poverino Bravo guest Vieni che ti riempiamo di botte tutti insieme L'abbiamo cerchiato Blue wins Ci siamo fatti 20 dollari Dobbiamo arrivare a 250 e ci becchiamo un'arma Allora, be a leader of a mafia Be popular at high school Vabbè, qui la scelta per me è ovvia, scusami, eh Ovviamente è popolare, no? Leader della mafia per i nichi High school, giusto? No, leader della mafia Sai che sarai da sola? Sì Ok L'importante è che lo sai Allora, io non ho mai sognato di essere popolare Popolare a scuola Ti dico la verità, cioè sono proprio seria Perché sono sempre stata molto timida Quindi no, non volevo essere popolare E odio che è popolare È un pareggio? Più o meno No, siamo uno in meno Ok, siete uno in meno Bravo, siete i miei adepti I guest sono diventati i miei adepti Ce la potete fare lo stesso Io sto puntando ai guest Aia, questo sta fermo e picchia Ma se li vado alle spalle Lui non mi può coprire Allora, i guest non stanno facendo nulla Io te lo dico No, vattene, vattene Ciao, Fere Vattene Vieni qua Che ti dà una caretta Vieni, vieni, vieni Addio, Fere Un leone o un hamster? Fere? Già scelto Hamster? Sì Ok Un cricetto tutta la vita Perché sono piccolini E sembrano delle palline di pelo Io vorrei troppo un cricetto E Steph non me lo compra Quindi adesso scrivete tutti nei commenti Steph compra un cricetto Ma non sarò io Compratelo Abbiamo un cane Abbiamo un gatto Non ci sta a fare nulla Un cricetto Che viene torturato dal cane e dal gatto No, non mi è felice Ma non sarebbe mai felice Pari? Ma più o meno Più o meno Io scelto il leone Perché vive più a lungo Ma non è vero Guarda che i cricetti vivono tantissimo Due anni Se li tratti bene Due anni Quindi non è tantissimo Allora, io continuo a pensare questo Perché ha le armi fighe Quindi conviene sempre buttarlo giù Chi è che mi sta picchiando? Chi è? Dovina Fere Non ci provare mai più Allora, no Devo allearmi con i miei Perché qui non va bene Per nulla Guarda che bellina questa tizia Con un capello da unicorno È carina Allora, io adesso esco e me lo compro Bene Non te lo puoi comprare Sei povera Anche un unicorno vorrei essere Ah, ecco Tante cose vorrei essere Grazie per queste informazioni importanti Allora È essere attaccato da 50 papere Grandi quanto dei cavalli Oppure da un cavallo grande quanto una papera Quasi tutti abbiamo scelto Oh mio Dio È un round speciale È un round speciale Ci si può arrampicare Oltre che combattere Ricordati che dobbiamo picchiare i blu Ma questa qua c'è una spada C'è una spada questa tizia Dannazione C'è un guest che sta facendo parkour Sì, stanno sempre lì sopra Che poi scendono Aspetta, cerchiamola Cerchiamolo Dai, dai, dai Fai, fai da bravo Vai Perfetto Bravissimi Bravissimi Finalmente ha vinto un round anche Fere Essere un poliziotto O essere un pompiere Oh cavolo Allora, io siccome odio la polizia su GTA Andiamo su pompieri Almeno salviamo vite Salviamo gattini Ma anche la polizia salva vite Fere No Fere Perché la polizia è cattiva Su GTA uccide sempre a noi Che non facciamo mai niente di male Invece pompiere salvi i gattini Le persone dagli incendi Quindi pompiere Ai, ai, ai Pompiere Cosa mi tocca sopportare Comunque Siamo in tre pompieri Oh cavolo Ma perché vogliono essere tutti poliziotti? È meglio Gira intorno Gira intorno Affidati Cerchiamo il pareggio Cerchiamo di fare il pareggio Ok Aia Ma è meglio il lavoro del pompiere comunque Aiuto Io un po' di legnate però le do Aspetta No, non è una buona idea fare le dannate e le legnate Sono troppi Questo è FK Aspetta, lo uccido Aia 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 Cambia fisso direzione Oui Mi vanno a tele da fregarli 20 secondi Ce la possiamo fare No, non possiamo Ce la possiamo fare Ce la possiamo fare Ma poi riescono a prendermi da lontanissimo Perché laggano Lo so Ci sono dei disgraziati Io non vedo nessuno 15 10 10 10 10 10 9 8 7 6 5 Dai, dai Resisti 2 1 Ce l'abbiamo fatta Pareggio Siamo degli infami davvero Siamo degli infami Incredibili Che soddisfazione Vai cambiamo mappa Andiamo a provare qualcosa Sì, però questa Sicuramente la rifaremo Perché mi piace davvero tanto Siamo entrati in una mappa Di Roblox Di Dragon Ball In portoghese Allora Infatti non è semplice Capire Possiamo creare Il nostro personaggio Possiamo fare La razza di Majin Bu Possiamo fare Un semplice umano Possiamo fare Un Namechan E possiamo fare Anche un Saiyan Io vado di Saiyan classico Anch'io Anch'io Vediamo un pochettino Ah, questa è la faccia Ok Bella la 14 Io ne ho scelto Una a casa Metti la 15 No, ma l'ho già scelto Prova la 15 Uffa, non me la fai ritrovare più Dov'è la 15? Vabbè, vabbè Ma che mi fai fare? Non capisco nulla Che vogliono dire queste cose Allora, io metto la 14 A 14 dai, mi piace Poi Questo è lo stile dei capelli Sì E poi c'è il colore dei capelli Ok Quindi ne avevo trovato Eccoli, questi mi piacciono Perfetto Rosa rimane rosa Quindi l'ho capito Il tono della pelle va bene Ciao Fere Perché abbiamo tutti e due i capelli rosa? Ciao Sei un copione Ti piace? Guarda la mia faccia arrabbiatissima Non ci possiamo picchiare Che sta succedendo? Che sta succedendo? Tra inserlo un sacco di osplayers Ma se vi so facci so? Non sa il portoghese Smettia Allora, traduce e cerca di capire Dove sei poi? Dove sei finito? Chiudi Gioco E dopo una bellissima mappa Di Dragon Ball in portoghese Proviamo a giocare a bullying Abbiamo capito che col portoghese No, non siamo proprio Siamo negatissimi Pensavo di capirlo meglio Ma non ci ho capito nulla nella mappa No, no, no Buongiorno signore Ci dia tutto per giocare Scusi 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 Ma se ne sta arrivando un altro Buongiorno Ah, ok Salve Allora, allora Vorrei giocare con delle persone Vorrei giocare con uno friends Ovvero Come Player 1 Allora Dio Get ready to bowl Vai, sono pronto a giocare Prendo la palla Oh Ok Ok, ok, ok Guarda Ho pure la linea E quindi io faccio tipo Strike Così Strike al primo colpo Strike al primo colpo, signori E a forza sono I coreani Grazie, è vero Sono bravissimo Allora Mi spieghi come funziona Come si gioca Praticamente devi cliccare la palla Eh, non me la dà Eh, perché Non sei nella mappa Però guarda che bravo che sono Vai Allora Praticamente io faccio così Poi faccio così Faccio così Pim Quasi strike Di nuovo Bene Bene Non benissimo Ok, ok Mi siedo qua Va bene Però volevo giocare con te Ho messo il tuo uovo Hai visto? Sì, mi hai copiato Sì, è troppo bellino Guarda che bellini che siamo Non mi sembra opportuno Sono un po' così Perché non ha funzionato il party Quando io volevo giocare insieme a te Anche io volevo giocare con te Fede Non è giusto Allora Però cerchiamo di colpire almeno quei due Pim Bravo 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 Un bel nove Un bel nove Un bel nove Niente Non trovo modo Mi tocca giocare da solo Gioca anche per me Allora Secondo me Più o meno così Potenza massima Dai lo strike È un po' Niente Sì È un po' difficile È un po' rotto No, no, no Salve Che vuole È un complotto Scusi Ma si vesta per favore Ma dimmi te Sì Lo vedo nudo Non lo è No, no È vestito È vestito da militare Tu che vedi cose strane Guarda, io lo vedo solo col cappello da militare No, no È vestito tutto da militare Poverina È tranquillissimo Dai, concentrati Guarda con che precisione te lo faccio questo Opla Oltretutto io non vedo niente Cioè non vedo i birilli Quindi devo cercare di vederli dal tuo schermo Che da qui non è che lo vedo benissimo Quindi sto così cercando di capire Speravo che vedessi Speravo che vedessi E delle tue esultanze capisco se va bene o va male Ok, ok, ok Quindi in sostanza è quello che mi sta succedendo E quindi ti stai divertendo sicuramente molto Tantissimo, guarda Capisco Sì, tutti i giorni Tutti i giorni Allora Pum Dai, 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 dai Sei fatta? Strike Di nuovo coriandoli Yeah Sì, guarda lì adesso arrivano Yeah Allora volevo un attimino vedere Ok Se al bar possiamo ordinare qualcosa da bere Con i soldi che abbiamo in basso a destra Comunque C'è solo tu i soldi Nel mentre fatti c'è sapere se vi piace il bullying Nel caso così lo portiamo cercando di sbaggarlo E di giocare insieme Sì, vorrei qualcosa da mangiare o da bere Allora Questa è la witch's brew Ok Allora By now Sì Guarda Mi sono preso una latina Buonissima Buona Sono felice che ti piaccia Vedi che oltre all'uovo sono tutto nero Gigante Ah è di quelle bibite che ti fa Fare qualcosa di casuale In questo caso ti è diventata la testa gigante nera Devo tirare velocissimo Devo tirare velocissimo Giusto giusto Torta ma almeno tirata Direi che comunque ci possiamo fermare così Per questo 3 mappin 1 Per una volta lo abbiamo davvero rispettato Più o meno perché quella di Dragon Ball è stata un po' un fallimento Beh dai la mappa in portoghese era la cosa più bella dell'episodio Secondo me A me è quella che ha divertito di più E niente speriamo che qui nei video vi sia piaciuto Speriamo che vi sia piaciuto sia PikaSide che questa mappa Fateci sapere nel sondaggio se volete rivedere Questa mappa fatta un po' meglio Soprattutto giocata in parte insieme Trovando il modo e ci fermiamo così Beh ragazzi lasciateci un like E se la prima volta che vi vedete il nostro video potete considerare Rivedete e iscrivetevi ancora per perdere i video in tre episodi Ciao e alla prossima Ciao 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 Grazie a tutti.